eccoci qua allora dopo questa prova fallita sono sempre Roberto Figazzolo questo è sempre cinema da camera siamo arrivati ormai al 2 di maggio il 2 di maggio 2021 sempre con a parlarvi di qualche film da vedere questa settimana beh ovviamente l'enorme novità di questa settimana è che hanno riaperto il cinema hanno riaperto il cinema non solo in Italia anche a Pavia a Pavia il poli è aperto anche se di fatto è tutto esaurito fino a dopo domani quindi prenotatevi se avete voglia di tornare al cinema come è anche giusto fare dopo così tanto tempo in effetti poi tutti quanti naturalmente visto che c'è questo film in programmazione finalmente un film in programmazione dopo tanti mesi non settimane ma mesi mi chiedono di Nomadland Nomadland non ha solo vinto il leone d'oro a Venezia alla 77esima mostra ma è anche insomma è il film del momento ha appena vinto tre Oscar miglior film miglior regia e migliore come dire miglior film miglior regia e migliore attrice protagonista Frances McDormand bisogna dire qualcosa di Nomadland assolutamente il film del 2020 Chloe Zhao è la regista una regista non dimentichiamo la cinese nata a Pechino effettivamente molto come dire vedo che qua qualcuno si è già unito dandomi il pollicione quindi vuol dire che insomma piace questa scelta bene Nomadland è un film interessante per tanti motivi prima di tutto perché è di una regista appunto ormai in America da tanto ha studiato anche all'università New York ha studiato regia però è cinese è cinese tra l'altro ha questo rapporto proprio con la col paesaggio molto interessante un rapporto che vi basterà se non conoscete il film vi basta guardare il trailer per accorgervi quanto è malichiana questa nostra giovane regista anni 80 cinese è malichiana proprio da Teres Malik ovviamente Teres Malik per questo approccio assolutamente come dire spirituale direi olistico nei confronti del paesaggio americano ma non solo anche nei confronti delle persone due parole sulla trama bisogna farle perché se no non si capisce di cosa sto parlando Lei, Frances McDormand è Fern, una donna di mezza età non ancora pronta quindi per la pensione che si trova costretta a fare i conti con una vita che le sfugge perché il marito Beau, col quale lei ha condiviso appunto la vita fino a quel momento è di fatto purtroppo mancato, è morto dopo una lunga malattia e quindi lei è proprio déplacé, è spiazzata si divide tra un garage perché dopo aver perso anche il lavoro tra l'altro si divide tra un garage dove ci sono accumulate tutte le cose dell'ex marito di Beau e un van un van che lei adatta per viverci sopra e quindi poi a un certo punto decide che la memoria è una bella cosa, vivere di ricordi può essere a certo punto anche inevitabile però no, però vale la pena di continuare a vivere quindi di fare esperienze nuove quello che non riesce più ad accettare è la stabilità, la stanzialità ecco perché quindi comincia proprio, ve l'ho detto che era spiazzata bene, comincia anche fisicamente a spiazzarsi, ad andare in luoghi differenti e questo lo trovo, vabbè chiaramente figuratevi per un tipo come me che si è innamorato di William Listed Moon con Strade Blu potete immaginare che cosa pensa di un film come Nomadland tra l'altro con la dea Francis McDormand, non sapete, moglie di uno dei Cohen insomma, che recite in una maniera, ve la ricorderete, ha fatto film incredibili pensate soltanto a Fargo, insomma la poliziotta di Fargo bene, il film ovviamente come al solito non è solo bello per la trama che racconta tra l'altro è anche scritto da lei sebbene poi appunto di fatto sia regista, produttrice, scrittrice ma la cosa che ci colpisce è quanto, come dire, lei faccia suo anche questo racconto possiamo dire che la Zao probabilmente riesce a focalizzare proprio la sua attenzione anche sui dettagli minimi, su ciò che magari un americano ha smesso di vedere proprio perché l'ha sempre visto fin da quando era piccolo, è sempre stato lì ecco, lei invece come alien, come una persona che viene da fuori, come un'estranea riesce proprio a cogliere l'anima di questo grande paese è notevole poi che una come lei, che appunto nasce a Pechino decida poi di girare i suoi film tutti quanti in America nel 15 aveva fatto Songs My Brothers Taught Me cioè le canzoni, i canti che i miei fratelli mi hanno tramandato mi hanno insegnato mi hanno trasmesso ed è un film che passa subito alla Kenzende Realisateur un film tutto quanto girato a macchina mano con un impianto molto documentaristico che parla di due giovani fratelli un maschio di 18 anni e una ragazza di 12 che in realtà sono dei nativi americani degli Sioux Lakota vivono nel sud Dakota uno stato americano e in realtà vivono in una riserva una riserva dalla quale soprattutto il fratello e il maschio di 18 anni vorrebbe abbandonare che tipo di rapporto si sviluppa tra i due? da una parte la sorellina lo invita a riscoprire le tradizioni della loro stirpe loro sono la settima generazione e secondo una leggenda dei nativi americani sarà proprio la settima generazione quella che risolleverà dopo la grande tragedia del Wounded Knee sapete dove gli indiani sono stati definitivamente sconfitti che poi risolleverà le sorti dei nativi americani il film è troppo intelligente per diventare retorico e poi si interessa delle persone piccole perché sono le persone piccole che hanno più cose da dire alla fine pensate poi a quando nel 16 viene nominata per l'Independence Spirit Award e nel 17 gira finché avevo messo anche i sguardi puri che poi non ho avuto modo di farvi vedere perché è arrivato il Covid inizia lei gira The Rider Rider è il titolo quindi colui che cavalca colui che va a cavallo è il titolo originale in italiano Rider il sogno di un cowboy dove qui è un giovane americano che smette di sognare la fama nei rodei quando gli capita un incidente quindi ecco e poi la caratteristica di questa regista così come a Fern così anche al giovane protagonista di The Rider e ai due ancora più giovani protagonisti di Songs My Brothers Sold Me succede qualcosa c'è un incidente e là per esempio anche la morte del padre nel primo film e i protagonisti devono decidere tra lasciarsi andare oppure risvegliarsi oppure inventarsi una vita nuova ecco direi che è proprio qui che secondo me sta la grande novità della novità insomma dal punto di vista se volete degli esiti e che è quella che allora spesso il cinema americano soprattutto ultimamente ci ha abituato a magari grande disgrazie che capitano al protagonista e poi il protagonista si risolleva si risolleva e questa cosa naturalmente ci riempie anche di come dire dovrebbe almeno riempirci di ottimismo ecco attenzione L'Azio dice una cosa un po' diversa dice non si può negare che nella vita shit happens no? le disgrazie accadono ma questo non vuol dire che tu debba farti abbattere cioè ti lascia abbattere perché se no non sarebbero disgrazie la disgrazia per antonomasia viene e ti abbatte non è che tu ti risollevi facendo finta che non ci sia stata la disgrazia al contrario tu ti risollevi soltanto e solamente se fai perno su questa cosa che ti è successa cioè la vivi pienamente fino in fondo e dopo averla vissuta cioè vivendola proprio la come dire costruisci la cicatrice sulla ferita cioè non fai finta che non ci sia stata perché se tu fai finta che non ci sia stata quella cosa lì continuerà in realtà a rovinarti la vita no fai perno proprio su questa disgrazia che c'è stata per tentare di risollevarti di vivere anche attraverso quella cosa che ti è successa ecco questa l'ho trovata davvero da questo punto di vista un po' una costante della sua filmografia vi ho già detto che scrive che dirige che coproduce e d'altronde appunto pensate che il fatto di vincere da una parte il leone d'oro a Venezia e dall'altra vincere l'oscar come miglior film lasciamo perdere tutti i golden globe eccetera ma miglior film miglior regista miglior attrice protagonista è la prima volta nella storia degli academy award che capita per un film diretto da una donna cioè questa donna ha vinto il leone d'oro a Venezia e lei personalmente miglior film e miglior regista naturalmente per quanto riguarda poi l'attrice vabbè è chiaro che è una vittoria di Fressy McDormand ma è stata lei che che l'ha che l'ha in qualche maniera insomma Aurora Scalas mi ha piacere ciao Aurora io penso che da questo punto di vista già anche solo per questo cioè per se volete il fatto che il film di una appunto di qualcuno nato negli anni 80 donna nemmeno in America ma che viene appunto da Pechino riesce a girare un film tra l'altro ecco l'altra caratteristica che ha pur essendo così così giovane ha anche inaugurato una sorta di scuderia visto che appunto il suo compagno è il direttore della fotografia e lei l'ha conosciuto proprio sui banchi della Joshua Joshua James Richards lo conosce sui banchi dell'università a New York che frequentano insieme e e da allora lui dirige appunto fa il direttore della fotografia per tutti i film che lei ha girato si romperà questo sodalizio tenete conto che il film che lei si appresta a girare cioè Eternals è un film che parlerà per il Marvel Studio proprio degli Eterni questi supereroi accetteranno in Marvel Studio Joshua James Richards il suo direttore della fotografia bravissimo a girare questi film indipendenti e lei è una regista indipendente fieramente ma pensate da questo punto di vista al sistema come anche che è veloce a cogliere quelli che possono essere diciamo i lati più interessanti proprio anche proprio per la macchina cinema si prende così come magari il sistema si era accorto di un giovane Wim Wenders dai film che girava del Noi e Doi Ceschino là a Berlino comunque in Germania e lo chiama per dirigere Hammett Indagine Chinatown quindi la storia la storia si ripete non è andata avanti molto bene per il nostro Wim comunque vedremo che cosa succederà invece a Chloe Zhao quindi sicuramente un film da andare a vedere siccome mi ero fatto qualche appunto dicendovi che c'è un amore per gli spazi un amore per i confini confini come dire scusate come dire il gioco di parole ma confini sconfinati confini senza limiti e tutto sommato questa questa poesia che si prova esaltata dal direttore della fotografia nei confronti del paesaggio cozza quasi combatte litiga con una diciamo un'organizzazione sociale che non prevede il welfare che non prevede la solidarietà se non tra gli ultimi cioè la nostra regista dice l'america è malata è malata così come era malato che è morto di cancro e questa malattia è una malattia che ha tutta la società una malattia che evidentemente ci fa in qualche maniera ragionare su che cosa è più importante avere un tetto sulla testa o avere qualcosa nel cuore avere il piatto di minestra caldo davanti o avere la gioia che ti permette di di mangiare questo naturalmente come potete immaginare sono questioni molto molto complicate ma il fatto stesso che la la Zao affronti questi temi ti trovo assolutamente ficcante assolutamente importante naturalmente in questo momento il film è al cinema al politiamo di Pavia per esempio ma è anche online per esempio effettivamente già dalla fine di aprile quindi da due giorni fa dal 30 di aprile il film è in streaming su Disney Channel addirittura gratuitamente per chi per chi fa l'abbonamento questa la dice lunga su quello che sta cambiando la dice lunga sul fatto che come avrete letto anche sui quotidiani molti spettacoli teatrali anche si svolgeranno sia in presenza che poi online quindi ci sarà modo anche se volete da questo punto di vista è anche un arricchimento nel senso che prima magari c'era qualcosa che ne so in un altro stato in un'altra regione o semplicemente in un'altra città dove tu non potevi andare oggi invece da qui in poi almeno a quello che sembra certo sarà un'altra cosa poterlo vivere lì di persona sentire la polvere del palcoscenico come dire sudore e sangue però sarà possibile anche averne comunque almeno un'idea attraverso lo streaming quello che vi voglio i due film di queci di cui vi voglio parlare sono due film disponibili gratuitamente su RaiPlay e a questo punto ne parlo perdonatemi abbastanza velocemente perché qua come al solito poi se no facciamo notte e l'idea è quella di parlare di La Combe Lucienne nel titolo originale cognome e nome La Combe Lucienne nel titolo italiano è un film del 1974 è un film con appunto Tonino Delli Colli alla fotografia quindi l'italiano il direttore della fotografia anche di Pierpaolo Pasolini Delli Colli è un film di Louis Mal è un film in cui appunto la sceneggiatura è stata firmata dallo stesso Mal insieme con Patrick Modiano e anche con interventi di Margarete Fontrotta e Fabio Rinaldo che film è? è un film che ha scatenato un incredibile bagarre alla sua uscita pensate è un film che parla del 1944 uscito trent'anni dopo quindi neanche così distante e che dovendo parlare di dovendo parlare di una situazione particolare cioè quella della resistenza francese è totalmente come dire neutro nei confronti di qualcosa di quasi sacro come la resistenza come appunto che si opponeva a Pétain si opponeva ovviamente alla parte occupata dai nazisti così e il protagonista appunto che si chiama Lucien si propone visto che lavora è un ragazzino senza artene parte con nessuna cultura il padre è disperso in guerra la madre si è messa con il fattore cioè quello che insomma è il capo lì dell'azienda agricola che è dove lei lavora lui ovviamente non è mal visto dal fattore dal padrone e quindi va a lavorare nell'ospizio nell'ospizio si occupa dei vecchi insomma è un lavoro molto duro lui non è animato proprio da uno spirito molto come dire di servizio ma vedete anche il modo assolutamente cinematografico ecco qui devo aprire una piccola parentesi ci sono un sacco di ragazzi anche miei allievi dei licei così che mi chiedono come fare per imparare a fare cinema ma lo sapete che io ci penso più ci penso a me cioè per parare a fare cinema bisogna guardare dei film smettetela di guardare le serie per favore guardatevi la com'le sienne guardatevi certo anche la la zao ci sta assolutamente guardatevi i film di lui male guardate i documentari di Ophuls guardatevi Kubrick e vedendo i film che impari ad amarli e se li ami ti avvicini e magari puoi anche aspirare a farli questo fatto di pensare che ci sia qualcuno che siccome ti dice come funziona la macchina da presa in realtà ti sta dicendo come girerai i film è una delle palle più formidabili che potete immaginare ma stiamo scherzando cioè sarebbe come dire che appunto ti possono insegnare a scrivere un romanzo no ti possono insegnare a scrivere in maniera corretta ma non ti possono mettere nell'anima delle cose che tu poi tiri fuori su di una pagina questo è un po' il mistero della creatività questa è che siccome il cinema è qualcosa apparentemente che può sembrare più tecnico rispetto alla scrittura la scrittura inteso come la scrittura di una pagina allora si ha l'idea che se tu impari a tenere in mano una macchina da presa e qualcuno te l'ha insegnato poi giri un film giri un film se hai qualcosa da dire non certo se hai una macchina da presa giusta o se sai come funziona un diaframma certo devi saperlo ma devi aver soprattutto qualcosa da dire a questo proposito Lucien non ha né arte né parte non ha cultura allora siccome non gli va di continuare a pulire la cacca degli ospiti dell'ospizio cerca di lavorare dentro alla fattoria dentro alla come dire nella cascina ma il padrone non lo vuole allora va a proporsi al maestro del paese che è anche il capo della resistenza il quale dice appunto siccome lui di fatto non ha competenze è solo giovane dice che probabilmente sarebbe un disagio averlo lì dice ne abbiamo già fin troppi come te e allora lui cosa fa è interessante questa cosa qua non avendo nessun tipo di formazione nessuna morale di fatto lui si offre semplicemente come delatore ai nazisti ai francesi passati dalla parte dei nazisti del nazionalsocialista e questa cosa se volete da una parte stupefacente dall'altra perfettamente comprensibile invece perché così perché non può che essere così lui in realtà è alla ricerca di una di una via d'uscita lui vuole essere qualcosa vuole essere qualcuno e se non riesce a essere qualcuno nella resistenza sarà qualcuno nella parte opposta della resistenza è notevolissima questa anche la sua scelta di campo e anche perché poi tra l'altro in questa maniera se i partigiani non l'hanno voluto lo accettano invece di buon grado i nazisti perché loro hanno bisogno di qualcuno che canti che dica per esempio loro visto che non gliel'ha detto nessun altro che il maestro del paese è anche il capo della resistenza quindi se vai a torturarlo probabilmente lo catturi lo torturi probabilmente ti dirà qualcosa di importante se vuoi fare qualcosa contro i partigiani da questo punto di vista e qua mi fermo anche per quanto riguarda la Combe Lucienne guardate alla che poi naturalmente è fantastico il fatto come alla fine poi sia l'amore che lo guida lui si innamora di Orore Clemant che è questa bellissima ragazzina ebrea figlia di Hoare questo sarto Albert Hoare questo sarto che viveva già a Parigi nascosto ma che adesso chiaramente andrà a vivere in come dire in paese per riuscire a nascondersi anche dai dai suoi aguzzini e la cosa che mi colpisce tanto è proprio questo inizio questo incipit davvero notevole dove il nostro protagonista è lì che appunto lo vediamo che sta pulendo per terra anche sta dandosi da fare intorno ai letti dei ricoverati di questo di questo ospizio e sente un uccellino fuori e tu che sei abitato a vedere il film diciamo guarda che animo gentile anche questo inserviente vedi lui fa un lavoro molto duro qua si occupa delle deiezioni si occupa insomma della cacca e della pipì di questi poveri ricoverati lì anziani però ha uno spirito poetico ha sentito l'uccellino adesso andrà fuori e in effetti lui lo vediamo in soggettiva che appunto guarda guarda le fronde degli alberi per trovare l'uccellino che cantava e subito dopo lì è stupendo Mal quando gli fa prendere la mira e abbattere questo uccellino con un sasso con la sua fionda è fantastico come dire vi ho preso in giro la com' le sienne non è per niente poetico la com' le sienne tra l'altro fa questa cosa non prova né una particolare soddisfazione facendolo né un particolare dolore la fa e basta è estremamente freddo come dire ecco se il maestro al quale lui va a chiedere di entrare nella resistenza avesse visto questa scena e se fosse stato intelligente l'avrebbe accettato perché vede benissimo che la com' le sienne non ha un minimo di morale non è un come dire non è un una persona con una morale non ha una morale perché non ha una cultura e non ha una cultura perché 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 è andata così è andata così cioè l'assenza del padre una madre attenzione una madre che dice ma come ti fai dare ti guadagni da vivere con la polizia qua la polizia francese che lavora per i nazisti lo critica e intanto prende i soldi prende i soldi che lui le passa quindi anche da quel punto di vista lui che tipo di insegnamento ha da parte degli adulti zero e cosa può alla fine Albert Orr il salto del quale lui come dire che per lui diventa una sorta di padre putativo eh con appunto la cui madre lo guarda malissimo dall'inizio alla fine poi e poi è fantastico il cartello finale che naturalmente siccome non sono un disgraziato non voglio non voglio spoilerarvi eh vi parlo ancora di un film visto che ho ancora qualche qualche istante ed è eh appunto quello che vi avevo annunciato l'altra settimana ogni promessa e debito still life eh still life è un film cinese un film del 2006 eh anche questo lo trovate gratuitamente che sono i play il l'autore è Sankei Ya e so già che la mia amica Yao qui eh mi eh si sarà messa a ridere eh perché se mi segui in diretta perché l'avrò pronunciato malissimo e siccome sono uno che non ha paura di nulla vi dico anche il titolo originale che è Sanxia Haoren eh tradotto still life quindi una una sorta di natura morta ehm parla della della diga delle tre gole costruita eh nella contea di Feng Ji eh sul fiume Giallo ehm questa diga che è costruita da appunto di fatto proprio nel momento in cui si gira il film quindi 2005 2006 prevede la eh ah bene Paola ti è piaciuto still life mi fa molto piacere mi fa molto piacere ehm ehm prevede il come dire il fatto che se ne vadano qualcosa come un milione di abitanti della zona eh c'è una scena che già quando ho visto il film a Venezia nel 2006 anche questo guardate il caso non solo opera di un cinese come Nobatland ma anche lui vincitore di una Leone d'oro nel 2006 ehm quindi addirittura in questi incontri eh in maniera incredibile poi tutto si tiene no? due film cinesi due film che vincono due volte il Leone d'oro e il film è stato definito un film eh girato in ambienti tremendi e di una bellezza morale incredibile quindi estetica e morale ehm guardare still life è una lezione di cinema guardate i titoli di testa che scorrono c'è una macchina da presa che eh è all'interno di un sul ponte di una barca di un traghetto e piano piano scorre ma senza fretta sui volti eh di eh di quelle persone che sono lì sul ponte e sono diversissime ce ne sono alcune che hanno una giaccavento altre che hanno eh una casacca più diciamo tipica del contadini cinesi di quella zona e altri ancora che sono a torso nudo a petto nudo ehm ci ne sono alcuni che portano animali da cortile e altri invece che hanno un aspetto più cittadino eh sono diversissimi ma la macchina da presa trascorre su di loro senza giudicarli e al tempo stesso questa cosa che poi tra l'altro come dire non è che ci dica un granché nel senso che eh vediamo solo questi volti ci dice tantissimo mh del fatto che ci sono tante storie ci sono tante ehm tanti modi di affrontare per esempio una un cambiamento radicale come questo è ovvio che poi dietro il cambiamento radicale c'è tutta la storia della Cina pensate al concetto di corrente la corrente è quella del fiume che passa ma la corrente è anche la corrente elettrica che è quella eh in funzione della quale si fa la diga perché la diga permetterà la costruzione di un'enorme centrale elettrica e questa centrale elettrica eh darà appunto alla alla Repubblica cinese quello di cui è alla disperata ricerca cioè energia ehm questa energia che serve muovere le macchine che serve a a far andare le fabbriche in realtà sta eh distruggendo se volete parlando di energia l'energia interiore di questi di questi uomini e di queste donne perché alla fine il film ha due protagonisti un uomo e una donna l'uomo è alla ricerca della moglie che non vede più da 16 anni anche questa è una caratteristica che eh che della Cina contemporanea perché i mariti magari si comprano la moglie ma la moglie poi scappa e e loro la la perdono di vista siccome devono stare che ne so a lavorare da un'altra parte devono anche se se magari quella moglie lì ha dato loro una figlia quando la moglie se ne va e porta via la figlia questo protagonista che all'inizio sinceramente sembra una persona disadattata proprio non so poi in realtà capiamo che fa lo stupido per non pagarpegno come si dice quando alcuni del del traghetto lo come dire lo spingono dentro questa stanza dove ci sarà un sedicente mago che farà dei trucchi in realtà il trucco vero è quello di farsi pagare per guardare i trucchi lui appunto fa lo scemo per non pagare no? e di fatto poi non ha nulla qualcosa ce l'ha ma non vuole certo spenderla per vedere uno spettacolo ma anche in questo è molto è molto interessante cioè vedere come ad esempio il massimo della magia per il per il mago cinese è produrre euro produrre euro cioè non tanto una come dire trasformare i pezzetti di carta in banconote ma trasformare i pezzetti di carta in moneta locale e poi in euro cioè quasi che il il miracolo vero sia quello l'euro il film è davvero di una di una bellezza incredibile e da questo punto di vista è molto interessante vedere come per esempio dal punto di vista delle grandi testate sapete che si va su internet che questa è una ricchezza incredibile tu puoi vedere che cosa pensano che ne so Variety piuttosto che Hollywood Reporter il Chicago Tribune piuttosto che il New York Times ecco e il film del quale vi ho parlato ormai vi ho parlato di tanti film mi sa che siamo sui 150 da quando c'è il il lockdown il film che ha avuto il punteggio più in alto in assoluto ha avuto tantissimi 100 su 100 vi rendete conto c'è capolavoro assoluto e come molti dicono come si fa a giudicare una cosa del genere è come un dipinto è è di una grandezza incredibile e a differenza di un dipinto che è solo magari bello da apprezzare così riesci anche poi a cogliere attraverso il motion picture no? l'immagine che si muove riesci a cogliere anche sentimenti molto raffinati molto molto sottili che proprio si infilano come la lama nel burro nelle nostre coscienze perché la coscienza si apre grazie alla bellezza delle immagini che stiamo che stiamo vedendo ecco gli unici che 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 non ne parlano benissimo e questo fa molto ridere perché come dire ti dà un po' l'idea della situazione sono quelli di Variety no? quelli di Variety che non riescono a dire che il film è brutto ma dicono semplicemente che è imperdibile per i fan del di Zanchier quindi del Zanchier del del regista mentre invece insomma per gli altri considerando che non c'è un plot è più difficile da da apprezzare mi fa molto ridere perché come se i film fossero la storia che raccontano lo sappiamo benissimo che che non è così e a questo proposito per chiudere come non citare Ciccafertov il grandissimo Kaufman no? che appunto documentarista degli anni venti guardato male da un personaggio come Joseph Stalin perché credeva che il cinema dovesse rendere le persone più intelligenti migliori mentre invece sapete che a Stalin questo non interessava tanto l'importante è che facesse il gioco ovviamente del potere ed è molto interessante che cosa dice Kaufman che vuole chiamarsi Ciccafertov che in ucraino significa vortice rotante se volete essere poetici o più banalmente trottola e lui diceva state lontani dai film che hanno una trama state lontani dal cinema che vuole in qualche maniera mannirvi una storia questi film hanno la lebra questi film vi ammalano gli occhi sono come fumo come sabbia che vi arriva negli occhi quindi il cinema vero è quello senza una storia da raccontare ma con tantissime emozioni da trasmettere se vi piace questo è grazie grazie di avermi ascoltato e alla prossima puntata ciao ciao